Qualcosa non va a Charlie? Sì, Jack. C'è stato un incidente alle grotte. Jack è rimasto intrappolato. Lo stanno tirando fuori? Sì, sono in parecchia a scavare ora. E perché non li aiuti? Non sei venuto per dirmi di Jack? Voglio la roba, Locke. Non ce la faccio più a stare così. Vieni, ti faccio vedere una cosa. In questo bozzolo, secondo te, cosa c'è? Non lo so, è una farfalla. Che c'è? No, qualcosa di più bello, Charlie. È un bozzolo di falena. Un'ironia, tutti guardano le farfalle, ma sono le falene. Affilare la seta. Sono più forti, più veloci. È bellissimo, ma... Vedi questo, forellino? Questa falena presto emergerà. Ora è dentro che lotta, che si scava la via attraverso la corteccia del bozzolo. Adesso la potrei aiutare. Con il coltello. Potrei allargare il foro e la falena sarebbe libera, ma troppo debole per poter sopravvivere. In natura si lotta per diventare forti. È la seconda volta che chiedi indietro la droga. Chiedila ancora e sarà tua.